Il Paradiso 9, ipotesi trame autunno 2024, Vito si presenta da Maria Puglisi per rivederla. Le nuove trame del Paradisi delle Signore 9 di questo autunno potrebbero essere caratterizzate dal ritorno in scena di Vito Lamantia, a distanza di un po' di tempo dalla fine della sua relazione con Maria Puglisi. L'ex contabile del grande magazzino milanese aveva scelto di farsi da parte e rinunciare alla sua amata dopo aver compreso che ormai era innamorata di Matteo Portelli. Tuttavia, Vito non ha mai nascosto il suo forte sentimento nei confronti della stilista e non si esclude che possa spingersi fino a Parigi per rivederla ancora una volta. Maria aveva scelto Matteo nel finale dell'ottava stagione Maria aveva inizialmente illuso Vito Lamantia, facendogli credere di essere disposta a concedere una seconda chance alla loro storia d'amore, salvo poi fare un passo indietro. La ragazza aveva compreso di non poter negare il proprio forte sentimento nei confronti di Matteo, tanto da decidere di uscire allo scoperto con Portelli e ufficializzare così la loro storia d'amore. Vito, dopo aver scoperto la verità, era stato costretto a fare un passo indietro, si disse pronto a rinunciare a Maria malgrado il grande amore che sentiva ancora di provare nei suoi confronti, intenzionato a lasciare Milano per un po' di tempo, così da poter ritrovare se stesso. Vito va a Parigi per rivedere Maria, ipotesi trame Il Paradisi delle Signore Nove autunno Nelle puntate autunnali del Paradisi delle Signore Nove non si esclude che Vito possa tornare in scena e rendersi conto che, a distanza di un po' di mesi dalla fine della sua relazione con la stilista, non l'ha ancora dimenticata del tutto. Quel punto, consapevole del fatto che la stilista abbia scelto di accettare la proposta di lavoro che le è stata fatta da Defois a Parigi, si richerebbe direttamente in Francia con lo scopo di rivederla ancora una volta. Tra Vito e Maria, quindi, potrebbe esserci un nuovo incontro nel corso dei prossimi appuntamenti della sopopera, complice anche l'assenza sul posto di Matteo Portelli. Il personaggio interpretato da Danilo D'Agostino infatti tornerà a Milano, così come anticipato dall'attore stesso che dal prossimo 27 maggio sarà impegnato con le riprese della nuova stagione. L'attrice di Maria Puglisi arriva nel cast di Mina Settembre 3 al momento, invece, l'attrice di Maria Puglisi è impegnata sul set della fiction Mina Settembre, le cui riprese sono in corso a Napoli. Infatti Chiara Russo è stata scelta come new entry nel cast della terza stagione della serie, la cui messa in onda è in programma nel corso dei primi mesi del 2025 su Rai 1, mentre quest'estate andranno in onda le repliche delle precedenti stagioni in prime time.